Quello del mondo della longa! Ma che uomo che sono? Mediocre! Non è possibile! Qualcuno! E' stato fatto il nome tuo, ma che delica! La storia! Arrossita il volto! Che finisca negli occhi! E' stato riscattato dall'occhio in una parte, non solo! Ma non c'è riscattato alla parte! E' una verga cosa parezza! Per chi è? Come per lui! Lui per l'Ecuba! Se avesse i motivi che io per disperarmi! E' una roba e costura! Com'è? Oltre al ragazzo, ho letto un figura imponente di una storia unidica Protagonista, un tizio strano, pieno di capacità Di serefistica del diluvio Che nell'arca di Noé sbarci di umori costanti Scoprirà il resto marchero E guardandosi un po' allora, scorgendo solo un bordo, e le nera fece una virtù, bruciando mezzo mondo, si dice che non cambia tutto, cambia, sprende il destino, ripare tutto la calma, fare il nostro caos, e le nera fece una virtù, bruciando solo un bordo, irrelentibile, 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 robilmente, abbonicione, irrelentibile, irrelentibile, robilmente, robilmente. Parlando di statistica nella mia stanza romana, il mistico mi ha rivelato una visione umana, di un caos irreversibile, raggiunto spesso dalla storia, ma nessuno al mondo ha così larghe memorie, ed ho scoperto che questo è una prelizia, di verità non prescinde dalla giustizia, la situazione è palesata di capacità, che la risolto distruggendo questa società, da perdonata. Qualcuno mi può portare una grappa barricata, per favore. Per favore. Per favore. Per favore. Per favore. E' la condizione non è irreversibile, irrelentibile, rompicione, irrelentibile, irrelentibile, La condizione è nata Irrevecibile, irrevecibile Più sborra e meno spirri Questa era facile I ragazzi sentono sborre Mai dite E' un eccessivo tasso di entomia Nulla da fare per gli agenti della polizia E' un eccessivo tasso di entomia Non è da fare per gli agenti della polizia Perché provavi in venta a condizione Irrevecibile, irrevecibile Ovo in venta a condizione Irrevecibile, irrevecibile Ovo in venta a condizione Irrevecibile, irrevecibile Ovo in venta a condizione Probabilmente l'Antico Testamento ci insegna a distruggere quando è il momento Probabilmente ci insegna a distruggere quando è il momento Probabilmente la soluzione distrugge, distrugge Probabilmente la soluzione distruggere, distruggere